Benone, sin dentro i nostri spazi, mette ad una a queste, propite per fevelare i nuovi tecnologi, e smauro mi sanare al microfono, Giorgio Ianni, sale l'ospite che è diventato fisso, mandi Giorgio. Ciao buono. Buone, benvenuti dentro le nostre trasmissioni, dedicati alle nuove tecnologie, al web, internet e al suo rapporto con le società. Io mi visi che si era in La Sass, qualche giornata in Daur, fevelante, ad esempio, di e-book, libri elettronici, tutto è spiegato un po', ci mucca alle fatte, e vi ganchi dite che tra l'altro Amazon, che è la più grande libreria dal mondo, libreria, nel senso che è una buttega di libri, ma anche di Mautis, ormai, vende le biciclettes, Amazon, è stato il primo Bezos che l'ha prodotto, tal commercio elettronico, è vero, il commercio elettronico, ad esempio, il venderebbe via internet, non sai lì sa stesse elettroniche, o pensi a Ebay, assomigliava che nessuno avessi di fidarsi, sono state anche qualche robarie a livello elettronico, però io ho conosciuto tant'in che compro il nome così, mi sarei sempli, l'ex rettore dell'Università di Uding, qualche in Didiwea, le sindiche del sitato in Dula che si ganchi non mi diceva, ah ma lui va a comprare in libreria qualche anno in Dauri, io compri tutte per via elettronica, alle Clark e io non gli hai ditte che eri in Heinz, forse i libri di lui, che ogni tanto, perché eri in i libri americans, sulle radio, io compravi in America, c'era di là comprare in Finland, un Grumon di Puglia, hai avuto l'occasione anche in Grecia di questo, e dopo, vi ho tu, Comierce Elettronica, ti rive il libro, tu lo leis, dentro tu hai l'email dal docente universitario che lo ha scritto e tu hai le corrispondenze con lui, ecco questo è il collegamento di chi è l'infevelante dei Prince Heinz Novant, sarei se dici che sono cambiati tanti rubi, però contate, l'elettronica che non si adatta anche a queste possibilità, ecco il Comierce Elettronica, l'e-book che venne venduto per via elettronica, sarei se dici che i libri sono file, in realtà, ci impattano a livello sociale in D2, anche il Comierce Elettronica, che vende robe così per via elettronica. E' bello, l'e-book, le raccontavi tu l'altra volta, il fatto che sarà il prossimo boom del prossimo Natale qua in Europa, in Italia sicuramente, però già in giro per il mondo, le vendite degli e-book, cioè del contenuto in formato elettronico, ha superato quello sul formato cartaceo, perché? Perché è facile comprare a 100 euro un dispositivo, cioè un e-book reader, che riesce a contenere 4.000 libri, ha poco bisogno di essere ricaricato spesso, perché appunto non è uno schermo di tipo il monitor del computer, ma una diversa tecnologia di inchiostro elettronico, e quindi poter, con autonomia, poter avere sempre preso sotto mano i testi che ci servono, su cui posso compiere le operazioni di commentare a margine, sottolineare, riportare, e sono anche oggetti che si connettono a questi, o tramite il wifi, o addirittura gratuitamente attraverso le reti cellulari veloci, come è il caso del Kindle, che è il dispositivo di lettura degli e-book, cioè l'e-book reader commercializzato proprio da Amazon, ed è importante, come si diceva, questa cosa che Amazon non è un editore, è un distributore di contenuti, però proprio lui ha avuto l'idea di realizzare un dispositivo hardware fisico con cui sostenere, supportare il contenuto. L'e-book di per sé sarà un'altra di quelle cose che spaccheranno ulteriormente il mondo come lo conosciamo, come le altre cose che abbiamo parlato nelle scorse puntate, dopo la musica, il video, il cinema, l'articolo del giornale, l'informazione. La cosa migliore è che i libri, se non avessi indivignato, chiaso, a manco, i giornali e i libri si resisteranno all'elettronica, all'internet, perché sono importanti, ma manca al passare il team si visin dal contrario, rimperavolo e sbuttate scusse. Certo, perché cambierà sicuramente, l'oggetto rimane, perché è una funzione sociale, quella Non si fa sì, non buttino via tutti i libri che vengono a chiasi. No, li teniamo, perché hanno il loro significato, perché a volte è meglio avere un libro tra le mani, che avere un ebook, in certi momenti, in certi casi, avere edizioni preziose, libri vecchi, portarselo a letto con tranquillità, anche se si può fare tranquillamente con un ebook reader, che ripeto, non è un computer portatile, ne è per quanto piccolo sia. Quello che cambierà è la forma che questi oggetti, compresa l'industria che ci sta dietro, l'industria dell'informazione, l'industria dell'editoria, cambieranno per adeguarsi alle nuove novità tecnologiche. Ma arriveranno a tenere i bot, nome ai granchi, o anche i piccioli verranno di poter essere organizzati? Il vero internet ha dimostrato che sono i piccioli, che sono più aggressivi, anche, non sai, o pensi a Marduk, che l'ha chiamato un bot di case, ad esempio con MySpace, l'ha pagato un sclavin di bass, che ha questa community, che gli ha dovuto appuntare tutto sulle musici, che dovrà fare dei musicisti per poi lì, l'orto, se fassi connessi, vabbè, in lente va, ma ha tante pubblicità, perché da ora una struttura come ho, però qui che sa me che vengono guadagnati sono chi che hanno venduto il tutto. Ah, certo, perché era una struttura, erano come i piccoli mammiferi che sopravvivono ai dinosauri quando nascono, anche YouTube è nata dal niente, da due ragazzi, Google stessa è la tipica classica storia di due ragazzi universitari che si inventano qualcosa, nel momento in cui arrivano le major, nel caso dell'editorio... La stessa cosa che succede, la Microsoft è l'esempio classico, certo, la Apple stessa, però rispetto all'IBM, che era il dinosauro di quella volta, loro erano il piccolo mammifero che riesce a sopravvivere all'ambiente che è mutato, questa cosa sta avvenendo oggi, verso altre, nei loro confronti, da parte di altre piccole realtà che riescono a capire meglio quali sono le esigenze, tu prima parlavi ad esempio di YouTube, eBay, o tutte quante quello che... Sì che magari torna ringaciappate... Per parlare del commercio, sì, sono delle cose che sono nate, come si dice nel web 2.0, sono nate dal basso, quindi attraverso eBay, YouTube o Wikipedia non sono fatte da qualcuno come Marduk oppure un editore che dall'alto organizza tutta quanta una struttura editoriale per pubblicare degli oggetti, al contrario, si mette a disposizione una struttura vuota, poi ci pensano gli utenti a produrre contenuti e con la partecipazione in rete a rendere importante quell'oggetto. Ecco, io non so se hai resumo to art, però anche le radios locali sono nascute in questa maniera, le stesse onde furlani, che ha 30 anni, se erano delle persone, non ci sono e i giovani, se dice il vero, erano in ogni età, che hanno una planta all'antena, e qui che sapeva fare una roba, e qui che sapeva fare che altro, e dice il vero, e il post che sapeva fare a livello tecnico, che è il capito è semplice, qui sa per sé, e tu ci dici un fastucco sì, fastucco là, e mi fanno un po' ridi, perché è una roba vonde classica, però a stessi timpini sono nascutati dal basso, però ti aiuti in science i costi, ad esempio, che ha anche queste strutture, ma c'è costi, c'è calcosti, le corinte costi, c'è tigni, botone sei delle attrezzature, anche noi, insomma, sì, o pensi che qua anche vanno a comprare, che loro le domande in base, anche noi, è successo, qui sa, e tutto il resto, insomma, ha dei costi, ecco, il web, per cui ora, anche ora, un po' è democratico, in quella che sono cosce basse, o quasi in esistenza per fare delle roba, addirittura sono sbassate, dai ultimi science, però sarà un momento in quella che si vignorà al dunque, eppure, per come ora si è arrivata a passare, disincusi, il confine, ma ci succederanno in futuro, ecco, le vendite, i grossi attori che entri, in che scena, sai, tipo il test che vendite, MySpace che viene venduta, un grande editor come Marduk che ha il cir di differenziato, quando arriveranno i pescecani a parta via d'utte, ci succederanno, saranno spazi di libertà, le slays liberticides che sono a Tor, specialmente i tastatali, a Manodome, insomma, se pensi alle cineguai, ecco, io sono preoccupato però in questo senso. Ma finora il mondo dell'informatica, che ha portato poi al mondo del web, ci ha sempre mostrato che arriva sempre un sedicenne a un certo punto, che smanettando inventa una cosa che prima non c'era, e siccome il sedicenne non ragiona secondo una logica di redditività o di produzione o di distribuzione del suo oggetto, ma semplicemente per il piacere di farlo, riuscirà sempre ad essere sul piano dell'inventiva, della creatività, da un'altra parte, cioè dislocare l'intelligenza della sua creatività. Ripeto, YouTube, Wikipedia, Ebay, non sono cose inventate dall'industria precedente, sono cose nate dal basso, che nessuno si è messo lì a progettare e a dire, eh, sarebbe bello avere un sito in cui è possibile per chiunque caricare dei video, ma nessuno l'ha fatto, e YouTube, non dimentichiamoci, è del 2005. Ecco, io potrei dire che Ance stesse Berlusconi, con le sue televisioni, non l'ha chiamato lui, ma l'ha chiamato un altro progetto, che lui era una tv via cavo, che dopo gli aveva distribuito in un quartiere residenziale che lui aveva, e lui l'ha chiamato quella le partite di lì. La storia che tu prima hai detto. Quindi partite dal basso di altre persone, Ance stesse che la fa lui, nessuno lo sa. I pionieri, i classici, però nella storia italiana di radio libere e tv libere, tra il 73 e il 77 per dire, è proprio un modello di quelli che varrebbe la pena studiare, e in rete è molto ben tenuto in considerazione, perché è proprio un modello di funzionamento, di nascita delle cose dal basso, che è esattamente quello che internet è riuscito a fare, ed è quello che è la chiave del successo. Poi chiaramente i costi, il fattore commerciale, il crearsi dei network, penso alle radio, le radio libere, non erano più radio libere a quel punto, e si è arrivati a un consolidamento di una cosa che all'inizio era molto liquida, il fatto che chiunque, infrangendo la legge, come tu. Abbiava un trasmettitore. Certo, comprava un amplificatore da 5 watt e trasmetteva nel suo quartiere. La stafa mi riguardava i cestori. No, però, adesso senza dare giudizi politici, però la figura di Berlusconi è molto importante come sintomo, perché... Ma l'avessi impreduiti con lui. No, perché lui è importante, perché storicamente lui è un uomo che ha fatto il suo primo impero, l'ha costruito sugli atomi, cioè sul mattone proprio, sulla sua impresa edile, Milano 2 e poi gli altri. A un certo punto anche lui, che dal punto di vista impreditoriale, probabilmente è stupido o non è, ha capito che lì, nell'informazione, nella comunicazione, e si andava verso il mondo immateriale di quello che non si può toccare, ha capito che lì era lo sviluppo di alcune cose interessanti e lì ha costruito il suo secondo impero, che è quello però mediatico. Quindi lui, in questo passaggio che noi raccontiamo sempre, come diceva Negroponte, cioè uno dei guru... Nicolas Negroponte. A metà 90, nel passaggio dagli atomi ai bit, dal fisico al digitale, Berlusconi rappresenta, se vogliamo, un po' questo aspetto, perché è passato dal mattone a ciò che non si può toccare come una televisione. E con successo. E con successo. Penso che non lo hanno V2, ci sono anche altre persone su cui magari si potrebbe discutere, ma è che lui si smette in colpissi in casa, è chiaro, lui l'è evidente, anche in masse, però è su un netto, si arese in tante storie di contanti, a Torpa Europa, a Torpa Almonte, se proprio te sia voi. Dunque, e sin là, vi è orse una discussione anche sui media, che è importante per capire internet. E dentro queste puntate di web, perché c'è solo a lei, al che arriva prima, che riguarda internet e anche le fasi di internet, quando gli è crescita. E che si può dare senti in paradiche, forse internet ha le lati un in in, poi di corse come tutta l'informatica, ma forse, perché fino a un cerponte, io deserese di salutar Giorgio Iannis, di tornare a Tassi, tra i spazi tecnologici, sento un'altra puntata, e io vorrei sferverare di commierci elettroniche, perché mi interessa, vorrei capire che gli è esattamente, ma farlo capire anche in questi ascoltatori, perché tanti hanno dei dubbi, dopo in realtà te scubierci e loro stessi che compri. Certo. C'è un po' che naturalmente è sempre chi suono dei fulani. Mandi a Giorgio Iannis. Ciao, buono.